Ciao a tutti fringuelli, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a confrontare il gruppo Shimano Ultegra con il gruppo Shimano Dureis. Questi due gruppi rientrano nell'elite della casa giapponese Shimano, sono due gruppi di fascia alta. Quando si parla del gruppo Shimano Dureis dobbiamo capire che stiamo parlando di un gruppo di livello professionale. Considerate però che anche il gruppo Ultegra è molto simile al gruppo Shimano Dureis, la differenza sostanziale la troviamo soltanto nei materiali di costruzione mentre le tecnologie sono pressoché le stesse. La domanda da un milione di dollari che molti ciclo amatori si stanno ponendo è quella se convenga o meno passare al gruppo di livello professionale Shimano Dureis o accontentarsi del gruppo Ultegra che non ha niente da invidiare come tecnologia al gruppo Shimano Dureis ma che è semplicemente meno costoso e di conseguenza meno raffinato nei materiali. Le differenze economiche tra i due modelli sono molto sensibili, si passa ad esempio da 810 euro prezzo trovato in rete per uno Shimano Ultegra meccanico R8000 con freni tradizionali ai quasi 1400 euro prezzo sempre trovato in rete di un gruppo Dureis 9100. La differenza economica tra i due gruppi è sostanziale, ci sono infatti 600 euro che portano ad avere un risparmio di 300 grammi sullo Shimano Dureis. Questi 600 euro nel caso in cui un ciclo amatore decidesse di scegliere il gruppo Shimano Ultegra possono essere ovviamente investiti sulla bicicletta in altri componenti. Ecco quindi che non è poi così semplice scegliere tra l'Ultegra o il Dureis. Seguendo la logica di Shimano possiamo già individuare due fasce di utenti molto distinte. I componenti Dureis sono progettati e realizzati per tutti coloro che corrono in bicicletta, quindi dai professionisti agli amatori ciclo amatori molto evoluti che cercano il meglio dalle prestazioni della loro bicicletta perché magari vanno a competere in campionati nazionali o locali. Mentre i componenti Ultegra che sono comunque ottimi componenti sono realizzati prevalentemente per l'allenamento e per il ciclo amatore che ricerca da una parte funzionalità e precisione senza però dover aprire un mutuo in banca. Il gruppo Dureis è un gruppo molto estremo quindi è più soggetto all'usura e di conseguenza i suoi costi per pezzi di ricambio sono molto alti. In questo video tratterò principalmente il gruppo Shimano Dureis meccanico e il gruppo Shimano Ultegra meccanico rispettivamente con freno tradizionale e con freno a disco. Lo Shimano Ultegra meccanico con freno tradizionale è possibile trovarlo in rete se siete dei bravi procacciatori di offerte a circa 810 euro mentre normalmente in negozio lo si trova a 1100 euro. Così come lo Shimano Dureis meccanico con freno tradizionale è possibile trovarlo in rete seguendo le offerte e le promozioni a circa 1400 euro mentre in negozio normalmente lo si trova a 2200 euro. Per quanto riguarda lo Shimano Ultegra meccanico con freno a disco il suo costo è di 1300 euro e per il suo omonimo Dureis meccanico con freno a disco il suo prezzo è di 2500 euro. L'intero gruppo Shimano Dureis meccanico composto con freni tradizionali pesa 2 kg schiantati mentre il gruppo Shimano Ultegra meccanico con freno tradizionale pesa 2295 grammi quindi ecco i famosi 300 grammi di differenza. La stessa differenza di peso la troviamo anche nel gruppo Shimano Dureis meccanico con freno a disco che pesa 2322 grammi mentre lo Shimano Ultegra meccanico con freno a disco pesa 2575 grammi, una differenza di peso leggermente inferiore. Andiamo adesso a vedere i singoli componenti partendo dai comandi. Cambiano come abbiamo già detto i materiali ma l'ergonomia e la funzionalità sono praticamente le stesse. Parliamo adesso dei pesi dei comandi Dureis meccanico con freno tradizionale 365 grammi L'Ultegra meccanico con freno tradizionale 436 grammi Dureis meccanico con freno a disco 538 grammi Ultegra meccanico con freno a disco 554 grammi Anche per il deragliatore posteriore di entrambi i gruppi cambiano i materiali ma le tecnologie restano identiche. Per l'Ultegra è disponibile anche una versione a gabbia lunga in grado di tirare fino al 34 posteriore Quindi si parla di una cassetta pignoni molto generosa I pesi sono molto differenti. Il Dureis meccanico pesa 158 grammi Mentre l'Ultegra meccanico 200 grammi Per quanto riguarda invece il deragliatore anteriore la differenza di peso è di 22 grammi Il Dureis meccanico pesa 70 grammi L'Ultegra meccanico pesa 92 grammi Passiamo adesso ai freni tradizionali che pesano 326 grammi nel Dureis e 360 grammi nell'Ultegra Discorso diverso per i freni a disco. Nel Dureis pesano 256 grammi la pinza e 218 grammi i dischi Mentre l'Ultegra ha un peso di 286 grammi per le pinze e 236 grammi per i dischi Passiamo adesso alla cassetta pignoni che è il componente in cui si notano le maggiori differenze di materiali e di conseguenza anche di peso La cassetta Dureis presenta uno Spider in lega e friba di carbonio e di 5 pignoni finali sono in titanio Questo porta infatti a una riduzione sostanziale del peso della cassetta pignoni Dureis di 211 grammi Mentre l'Ultegra pesa 269 grammi Passiamo adesso alla guarnitura che utilizza la stessa struttura a quattro braccia sia per il Dureis che per l'Ultegra Qua le differenze di peso sono sostanziali mi sto riferendo alla combinazione 52 e 36 denti Il Dureis pesa 624 grammi l'Ultegra 681 Esistono poi anche delle piccole differenze di peso nella catena La catena Dureis 247 grammi molto estrema La catena Ultegra 257 grammi Ok ragazzi dopo aver parlato di pregi, difetti e costi e pesi è arrivato il momento di tirare le conclusioni Lo facciamo partendo dallo Shimano Dureis che ha sicuramente enormi vantaggi in termini di peso E soprattutto è in grado di soddisfare quei ciclisti che sono molto esigenti da un punto di vista della performance E devo dire che probabilmente è anche più bello da vedere da un punto di vista estetico rispetto l'Ultegra Per quanto riguarda gli svantaggi sono noti Il primo è sicuramente il prezzo ma anche un'usura molto spinta e un costo eccessivo dei ricambi L'Ultegra invece è un gruppo sempre di livello premium di casa Shimano Ma che ha molti vantaggi tra cui il prezzo decisamente più abbordabile Le stesse tecnologie e le stesse funzionalità del gruppo Dureis Ma anche una longevità che vi assicuro nel costo di gestione di una trasmissione È sicuramente da tenere in considerazione Siamo davvero arrivati alla conclusione di questo video E devo quindi rispondere alla domanda da un milione di dollari È meglio il gruppo Dureis o il gruppo Ultegra Beh come ho già detto in questo video Si rivolgono a due fasce di pubblico differenti Il Dureis per gli agonisti Mentre l'Ultegra per coloro che cercano un gruppo sì competitivo Ma che sia durevole e economico Posso dire quindi senza ombra di dubbio Che se si cerca il rapporto qualità prezzo L'Ultegra è perfetto Se si cerca il massimo Il Dureis è la scelta migliore Spero che questo video vi aiuti Spero di avervi aiutato nella scelta Fatemi sapere che cosa ne pensate E le vostre esperienze con il gruppo Dureis O con il gruppo Ultegra Bene sono ansioso di leggere i vostri commenti Noi come sempre ci vediamo al prossimo video Buon allenamento e alla prossima Ciao Ciao